C'è molto vicina, quindi noi abbiamo bisogno solo di bisogno, abbiamo voglia di piegare questi fondi per qualcosa che migliori, diciamo, più che altro la vita all'interno del reparto di questi bambini. Allora, noi programmaremo una scelta insieme agli altri medici del reparto di cose che effettivamente ci servono, ci fanno comodo, successivamente chiederemo all'azienda se è concorda per comprare queste apparecchiature, queste attrezzature, successivamente insieme faremo questo acquisto per questo importo che abbiamo, sicuramente non andremo sprecati.